Ciao a tutti ragazzi, in questa serie faremo la mappa Hospital di Slender in compagnia di mio cugino Mirko, che cerchi di non ridere, direttamente da Parma, auspizio, vedi? Vediamo un po' che succederà, perché ridi? Sarà lo Slender forse, allora, ecco qua, dove andiamo? Adesso a sinistra, vai vai, Todorekt, che lingua è Todorekt? Se sono i malinguenti, vedi? Spengo un po' la doccia, sennò se si scarica, vorrei evitare, perché... Allora... Se sono i biglietti, cosa devi trovare? Almeno nello Slender originale bisogna trovare le pagine azzeccate in giro. Capito. Qua non lo so, forse dobbiamo fare una radiografia, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Questa è proprio crollo. E' scalza. Per farlo farti in sto gioco, ci sono volute tre ore. 5.000 tutorial su YouTube per farlo. Ok, un scaldabagno. Waterman. Cos'è? Ecco qua una pagina. data. Save me. Ok, giurarsi il pari qui e c'amangi, ok. Ed ecco lo la! Che? 치 ma nonna se stavo qua lo slender ma c'è un altro can't run, can't hide ma la vaffanculo eh non corre, tengo tu fissa al retro perché non corre? eccolo là, dice che ha scritto non corre comunque in quello originale dava anche l'interferenza quando quando si avvicinava no, ma questo non è originale allora, questa qui è la mappa questa pezzotta guarda, sinceramente non lo so di preciso, se è lo dello stesso creatore c'è solamente che è una mappa a parte ovviamente le faremo tutte se non si blocca oh, figlia che cazzo è questo che cazzo è sarà quella che ha fatta la mappa questo sempre cazzo ma basta un po' con uno se non mi stordisce sto pezzo di merda che cazzo di lì cioè è entrato là dentro non l'abbiamo potuto far niente cioè che buona questa sì, continuiamo però questo qua è fatto meglio di quello originale perché quello originale sembrava, sembrava un babuino, storpio sì, a Kevin ecco ancora vado a capo un'altra volta Mark Steen con Spitz comunque ci troviamo, ci troviamo un altro, ma andiamo a sinistra ma i fire rimangono sempre lì non lo so se sono random se qualcuno che abbiamo ce lo troviamo già di facce ah può già comparire subito non devi prendere almeno un foglio non ne sai che non ma se no è già di romper il rumore dello sciabattamento molto reale allora lui sono qualche cinese con le sciabatte per prendere i suoi io ho attaccato la storia al microfono dietro ho qualche spizio, capisci? io ho attaccato i microfoni dietro i vecchietti questo è lo stesso di prima è lo stesso di prima dimmi che te lo trovi subito qua e mi c'ho paura di moia, capisci? ma che cosa ne ha detto? aiuto non ti girai così di scatto questo è è passato Matteo Mondesi qua è passato Matteo Mondesi qua forse si c'ho un tutto per sentimento adesso abbiamo saltato parecchie cose che è? ok non posso immaginare la faccia che tengo che cazzo che stanno tutti morti tutti morti davanti al computer proprio il gioco qua li androvate tutti così io oh che è? mi metti anzi e ci credo eccolo la foglia ma scommette che se già arrivi a destra ce l'abbiamo eccolo la ho giusto ma vaffanculo che cazzo ti viene l'ansia? la fin ma adesso rimane là? eh si domani però perché così pensi che vado via? Ma la fina c'è Maronna Ma che palla Quello originale C'è il Slender Slender E' anche peggio Perché è tutto buio Qualmina c'è un po' di luce Brass and burn bars Fa l'amore una guerra Non ce ne manca fa ni l'altro Ma vaffanbrodo Ma vale che basta girare l'angolo Ma vaffanculo Si farò che ci stanno chiamando un culo C'è C'è Non mi posso girare in nessuna parte Ma è la storia La sai Ah 4 No è impossibile da completare Oh sfido chiunque A completare A questo punto Io farei l'ultimo tentativo E poi direi Di chiudere qua Perché E' impossibile 16 pagine C'è Una cosa assurda Ma l'hanno mai completato Quel gioco qua Non lo so Non ne ho idea E' completa Completa il poema Il cane lì si Fa la guardia Che è? Perché così vuoi? Si vede il cane che si alza E' tirata la torcia a scarico No Ma c'è un brutto presentimento adesso Secondo me è sempre per il primo Appena prendi il primo Poi quando inizia Il passo del gigante Il problema è che lo stronzo appare Ai lati dove non Ovviamente non si vede Quindi a base di giri di scatto Te lo trovi ovunque Si infatti C'è basta capire L'ho notato Ma vai che prima Non l'ho vista Quando ti ho ammazzato Mi sono girato Ma è addirittura Ah perché mi stordisce Con questa cosa Mostra a destra guarda E' sopra Soffitto è lì che ti segue Ecco Da adesso in poi Non ci gireremo più Ma è sempre un brutto Continua ad andare contro il muro Non so perché mi hai venuto Immagini in me Non lo trovo in fondo alla strada Con una busta della spesa in mano Con una busta della spesa in mano Non lo so perché Mi immagino così Eccolo l'altro Segui Gio Adesso ce l'hai qua Guarda A destra Con le busse in mano Si vado dritto Dell'essere lunga A me sembra dritto Finché c'è il corridore Che va dritto Ora si fa dritto C'è un foglio lì a destra No 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 mi fa un girato Ma io con... Ah Arrimano il condotto della reazione Che cosa adesso fa? Certo Abbiamo già venuto Qua stanno... Stanno ritornando indietro E non c'era sta porta no Sarà un'altra ascensura Anche perché? Giratti delicatamente Con la coda dell'occhio Delicato 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 Che stava? Delicato Allora tu non puoi giocare ad amnesia Cos'è? È un gioco che ho finito però Ti metto con l'ansia tutto il tempo Eccolo è completamente È completamente Perché c'è praticamente È talmente Il volume è alto Che mi sta So proprio di... Eccolo là Qui questa qua Anzi c'è l'orgasmo Magari è citata Che lei mi serve Piano Secondo me stiamo facendo Sempre la solita E io vorrei andare sempre dritto Perché non guarda da qui Poi piano Piano E qua sinistro Ma vaffanculo E' a destra Stai sbagliato di poco Stai sbagliato di poco Stai ma i foglietti non ne vedo più Sono finiti Le ha presi Le ha raccolte lui per noi Eh lui era lì a destra Era a destra Sicuro Ecco adesso lo becchiamo Sicuro come lo È quotata Quanto è quotata? 1.5 È quotata che qua A destra A destra c'è È qua dentro Qua dentro No È qua come prima Qui non siamo venuti Questo dovrebbe essere Lì dovrebbe essere l'inizio comunque Io pensavo Quando me l'avevi fatto vedere Il video Pensavo fosse un gigante Eccolo In realtà dovrebbe essere Tipo 3 metri Però L'ideale Beh stavo là Bastardo Siamo ragazzi Stiamo girando Un là dentro Qua dove l'abbiamo visto Prima Cioè Non abbiamo perso Prima Shrider Ecco Dai Sei scato Masa San Dommaso Bah Non ce ne sono più Ma scusa Quelle foto del tipo La stanza Quelle foto del tipo Eh Beh adesso Lo becchiamo Pesa Guarda qua Quando ho detto Hai fatto delle buste Le foto dei tipi Le stanze Con le foto dei tipi Qua pare che non siamo andati Occhio Occhio Ho fatto il 360 Mi male che non si muovono Che si muoveva pure Nel papà In che senso Che camminava pure Se si sentevano i passi Cos'è? Ma è se esce lui Slow Painful death Ma oh bro Ma vaffanculo Voglio almeno leggere qua Ah questo è Sono tutti i partnership Famosi Cioè non sono Almeno per P-dai qua Come cazzo si dice Siamo morti No no ce l'abbiamo fatta Quello si avvicina Se non lo tocchiamo Stavolta Ma ce lo traeremo di faccia Sì beh Ti preoccupa Che dietro non c'è Mi sento nel gioco Quante ne mancano Parecchi Cioè sono qua Sono 12 16 Mi pare 6 Si va a fanculo Dove è che dove sta? Ah Maggio Allora questa era la mappa Hospital di Slender Questo direi che è tutto Visto che il gioco è impossibile Da finire Quindi abbiamo provato Almeno a collezionare tutti Però siamo riusciti a prenderne solo Ok Questo è tutto Un saluto da Kevin E Mirko Ciao a tutti